Ragazzi ma quanto spaccano i nostri usati Arrivata oggi Mazda 3 e Volvo Andiamo a vederla subito Eccola qui la nostra Mazda 3 Super easy Quindi ragazzi parliamo di Mazda 3 e Volvo 1.5 di cilindrata, 105 cavalli, diesel Cambio manuale con 36.449 km Questa arriva direttamente dal nostro partner ALD Quindi è in perfette condizioni e con un singolo utilizzatore Questa potete venire a vederla qui da noi in showroom Oppure vi basta visitare il nostro sito cliccando il link che trovate nella descrizione Tra le auto usate trovate questa e tantissime altre auto Correte immediatamente Ciao